Arrivavano in Italia come turisti e dopo pochi mesi tornavano a casa da cittadini italiani. Tutto questo avveniva tra l'Abruzzo e il Molise a beneficio di un numero imprecisato di persone provenienti da Brasile. Per questa vicenda sono finite sotto inchiesta 17 persone, tra le quali figurano il sindaco del comune di Castel del Giudice, Lino Nicola del Giudice, un funzionario dello stesso comune e altre tre persone residenti a Prato la Peligna, C.C., D.P. e T.M.P. le loro iniziali, due delle quali ex amministratori comunali. Gli indagati sono accusati a vario titolo di corruzione in atti d'ufficio e falso ideologico con le circostanze aggravanti. L'inchiesta di cui è titolare la Procura della Repubblica di Sernia è un filone di un'inchiesta più ampia aperta dalla Procura della Repubblica di Firenze. Secondo le ipotesi di reato formulate dai magistrati inquirenti, gli indagati in accordo tra loro avrebbero messo su un'organizzazione tramite la quale i richiedenti provenienti da Brasile offrivano denaro e altre utilità agli amministratori pubblici a fine di far compiere loro atti contrari e doveri d'ufficio e nel caso specifico rilasciare la cittadinanza per diritto di sangue, iure sanguinis, pure in mancanza della documentazione prevista dalla legge. Ogni straniero avrebbe versato una quota di 300 euro e vari regali agli amministratori pubblici, quali cesti natalizi e casse di vino, mentre gli intermediari ottenevano circa 3.000 euro. Ulteriori indagini si stanno concentrando anche su altri centri della Valle Peligna per accertare eventuali regolarità.